Sono stati sorpresi a rubare all'interno del cimitero di Manfredonia Matteo Falcone di 39 anni e Mauro Gatta, 27enne, entrambi del posto, arrestati dagli agenti della locale pulizia. Una risposta immediata delle forze dell'ordine al fenomeno di furti che stanno interessando il territorio sipantino e in particolare il cimitero. All'interno di quest'ultimo, nei giorni scorsi, sono stati compiuti ripetuti furti e il dirigente del commissariato ha predisposto un idoneo servizio di appostamento sia all'interno del cimitero che nel perimetro circostante. Nella prima serata i poliziotti appostati nel cimitero hanno notato la presenza, vicino alla tomba del Carmine, di alcuni uomini visti armeggiare vicino ad alcune lapidi e gli stessi agenti hanno avuto modo di notare che i due malviventi trasportavano la rifurtiva nei pressi dell'uscita secondaria apposta su via Generale Azzarone. I due sono stati visti mentre raccoglievano il buttino e lo caricavano nella propria autovettura. I poliziotti sono intervenuti e hanno bloccato l'auto mentre si allontanava a fare i spenti. Uno dei due malviventi ha tentato la fuga ma è stato subito dopo fermato dagli agenti. Tutta la scena è stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza installata per l'occasione. I due malfattori sono stati identificati Mauro Gatta e Matteo Falcone, arrestati per concorso in furto aggravato dalla violenza sulle cose, nonché vilipendio alla pietà dei difunti. Nel bagagliaio del veicolo è stata trovata tutta la rifurtiva e nel corso della perquisizione anche alcuni oggetti utilizzati per commettere il reato, quali chiavi per lo smontaggio dei vasi portafiori ed un coltello.